Riccardo Fogli 1976, questa stampa in cd davvero molto rara e speciale, parliamo della stampa Arcangelo con Hobby. La canzone che vi faccio ascoltare in questo video è la canzone numero 10 intitolata Finito. Buon ascolto. E adesso che si fa? Finito lo spettacolo Restiamo io e te Seduti a questo tavolo Ancora un po' Restiamo qui Parliamoci Ma chiudi gli occhi tu E non mi aspetti più Buona notte Che farai? 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 E viene tu? Che farai? avete sentito che sono che ascolto vi devo dire che la versione giapponese di questo album in cd e versione remastered restaurata